Grazie, ci siamo, è un video per gli sposi, ci siamo vestiti, io oltretutto ho fatto tinta con la cintura gialla, ci siamo abbinati, però abbiamo tutte e due le scarpe nere, ci siamo abbinatissimi, Popi siamo abbinatissimi, io so anche rosso nelle cote perché ho portato un'altra roba su per le scale e ci ho ancora il fiattone, lei ha le labbra rosse, Popi sei un grande, e comunque Popi stamani guarda veramente te lo dico, eri bellissimo, no è bellissimo, io non ho mai visto lui così, bravo, un figurino, ciao a dopo, a mezzogiorno.